Noi Trentini sappiamo bene quanto sia importante avere cura del nostro territorio, tenerlo costantemente pulito, bello, serve per l'agricoltura, serve per il turismo, ma anche per la nostra qualità di vita. Abbiamo investito tanto in tecnologie, in infrastrutture e anche nella formazione delle persone. È fondamentale per guardare con fiducia al futuro. Molto semplice, continuiamo così.